Partire proprio dal secondo tempo, condizioni ottimali da Roma per poter aspettare a ripartire e sanno far male, finisce 0-0, cioè una squadra che si è buttata in avanti, ha cercato come ha potuto, andando a sbattere contro l'avversario, creando meno anche occasioni paradossalmente rispetto al primo tempo, ma senza mai scomporsi, senza mai lasciare il campo aperto e correre veramente i grandi pericoli che avrebbe potuto correre. Questo è un segnale positivo da cui ripartire? Sì, perché per assurdo fra primo e il secondo tempo, quando c'è stata la possibilità di dire quello che abbiamo sbagliato il primo, secondo almeno da quel punto di vista non l'abbiamo fatto, è vero che il primo tempo abbiamo giocato bene, ma abbiamo giocato bene, sembra assurdo commentare un 3-0 dopo un tempo e tu dici che hai giocato bene, però se cerchiamo di essere lucidi, loro hanno avuto tre tiri, anzi due tiri, perché il rigore non lo considero un tiro, e ci hanno fatto due gol in grande qualità, noi il palo di Guarini e altre situazioni favorevoli le abbiamo sprecate, questo è il torto che veramente abbiamo, e siamo stati ingenui su due o tre ripartenze loro, loro dovevamo fare come hanno fatto loro per tutta la partita, ogni volta che ripartivamo da squadra esperta non ci facevano partire, e qui bisogna lavorare, bisogna crescere su questi episodi, però la strada è giusta perché la squadra ha giocato bene, il primo tempo soprattutto, per assurdo abbiamo perso 3-0 ma abbiamo giocato bene, e quando poi chi fa calcio da tanto tempo sa che quando non è giornata si perde, si perde, noi bisogna andare oltre come si è fatto fino ad ora, questa è la strada giusta, bisogna giocare bene, stare attenti agli errori, correggerli, e sono convinto che quando fai così saranno più le vittorie che le sconfitte, ci può stare una sconfitta, ripeto, se si sa far fruttare, se si sa far tesoro di tutto quello che ho detto. Con questo blocco si arriva a 14 punti, adesso c'è la sosta, io penso che torniamo a luglio, arriviamo adesso con la squadra che gioca in questa maniera, che ha già battuto la Fiorentina, ha fatto bene con la Juventus, ha fatto bene comunque anche se ha perso 3-0 con la Roma, forse l'avremmo firmato. Adesso c'è un altro, la sosta è poi un altro blocco, cosa ti aspetti da questo blocco successivo in termini di crescita? Mi dispiace solo che i ragazzi vanno via e non ci posso lavorare, quindi c'è una decisione che noi abbiamo ancora bisogno di lavorare su delle cose proprio individuali, bisogna crescere, come ho detto, come si è detto, per essere competitivi, come già lo siamo, però bisogna esserlo ancora di più, bisogna stare attenti a capire certe sciocchezze, è anche vero che siamo molto giovani, sono arrivati giocatori giovani, alcuni devono crescere come continuità, come attenzione, come malizia, e sono convinto però che se continuiamo, ripeto così, al di là della sosta, siamo sulla strada giusta, come giustamente hai detto te, è vero che abbiamo fatto sette partite, ma abbiamo incontrato tre squadre forti forti, ci è andata male solo una partita, abbiamo fatto quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta, siamo da un punto di vista dei risultati molto contenti, quando si perde, io stesso non sono mai contento, però ripeto, l'esperienza mi dice che bisogna continuare a lavorare così, a pensare come ho appena finito di dire. Roberto Nagaia. Buonasera mister, in un campionato come questo, con 5-6 squadre forti che evidentemente sono anche molto equilibrate, quanto può contare che una partita come questa, negli errori vari che sono stati commessi, mi hanno fatto complimenti anche alla Roma, abbia avuto un errore, a mio avviso quello del calcio di rigore, che ha spostato un'inerzia, è arrivato completo, poco dopo il palo di Cambiasso, il colpo di testa di Alvarez, con la sensazione che l'Inter avesse, non dico che fosse un'onda in piena, però avesse la forza per poter andare a pareggiare la partita, è un errore che però, definisco errore, che però cambia l'inerzia. Non ho gli equilibri gli errori così, però vedi, questo ci deve far riflettere, quando è la giornata classica storta, dove tu tiri, non fai gol, prendi il pallo, dove gli altri tirano e fanno al primo tiro il gol, dove l'arbitro sbaglia, che sull'1-0 è un errore importante, perché il 2-0 taglia le gambe a qualsiasi squadra, infatti ecco, se si guarda il positivo, noi non ci siamo mai resi, ma per assurdo, magari abbiamo fatto un po' di confusione, la Roma era arroccata, noi si è tentato, anche per strade non nostre, di poter fare un gol e riaprire la partita. Oggi si è visto, io dicevo a quelli della panchina, ragazzi oggi se stiamo tutto il giorno non entrerà mai la palla, con la Fiorentina quando si è fatto questa reazione vemente, comunque siamo stati premiati dal gol di Cambiasso, in una mischia, e oggi la palla andava sempre a finire dall'altra parte, da dove c'era uno di loro, a merito della Roma che è stata attenta, ci temeva, è stata adrenalinica, fino all'ultimo, però ecco, questo la dice lunga sulla giornata, però ripeto, chi fa calcio da tanto tempo sa che ci sono giornate come oggi, devi accettare la sconfitta, devi leccarti le ferite, però non cambiare mentalità e strada, perché la strada è giusta, permettetemi una mezza parentesi, non ho avuto tempo di dirla in sala stampa, io che vengo e da poco sono in questo club, devo fare complimenti, un plauso al pubblico che ci sta veramente aiutando, e mi è piaciuta la maturità, ho guardato la partita, nonostante un 3-0 preso così dal pathos e del momento, non ho sentito un fischio, complimenti, grazie davvero, perché se siamo tutti uniti, compresi i nostri tifosi, io sono convinto che siamo sulla strada buona tutti, veramente, al di là del risultato purtroppo di oggi che ci brucia. Un'ultima considerazione, gliela faccio io, mister, buonasera, che cosa che lascia più, quindi, dopo questa sconfitta, l'amaro in bocca, cioè se proprio deve segnare una cosa. Ma mi dovrei ripetere, l'amaro in bocca è questo, perché ho visto giocare bene la squadra, glielo ho detto fra primo e secondo tempo, si è buttato via una partita per l'ingenuità, perché se fossimo stati un po' più smaliziati, come è stata la Roma, su certe ripartenze, soprattutto sul terzo gol, avevamo la possibilità di fermarlo prima, che è andato via, e siamo andati lateralmente. Insomma, mentre la Roma appena partivamo, se voi avete visto, poi il numero dei falli, guardate lì, ce ne la dicono lunga, no? Avevano una difesa interamente ammonita, erano tutti ammonite. Poi, ora, vabbè, lasciamo stare alcuni episodi dove magari ci potrebbe essere il cartellino giallo prima, comunque non voglio entrare in questo. Ma non serve, perché quando abbiamo avuto la superiorità numerica, si è fatto male Alvarez era proprio destino anche quello, cioè quei 20 minuti con l'uomo in più, non l'abbiamo avuto. Bisogna scogliere segnali, da quel pareggio del Cagliari in poi, sembra che c'è un po' successo di tutto, ma momenti negativi esistono, è un momento che da quel momento in poi, ad oggi, si è visto che proprio non ci gira niente. La squadra è importante, reagisce stando ancora più attenti agli episodi, a fare cose bene, basta appunto una situazione favorevole che ti fa ripartire. Bisogna stringere i denti, stare attenti a tutto, e ripartire dalla prima partita che ci sarà. C'è un certo senso che siamo in buone mani, grazie mister. A voi. Grazie mister. Buonasera. Grazie, buonasera. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...